Musica Ciao a tutti ragazzi e buon lunedì Oggi è una giornata particolare Perché? Perché oggi è l'inizio della settimana che ci porterà a mercoledì E mercoledì non sarà una giornata come gli altri No, sarà la giornata in cui andiamo a giocarci una finale di Coppa Italia La seconda finale stagionale La seconda finale stagionale contro l'Inter L'ultima possibilità di portare a casa un trofeo E mai come in questo momento ho sognato di vincere una Coppa Italia E lo so che fa male dover dire una roba del genere Ma non mi tiro indietro Questo penso e questo dico Non c'è problema nel dirlo Il problema è davvero l'ammissione del sto sognando una Coppa Italia Come vi dicevo la settimana scorsa Credo che sia stupido parlare di chi ha fatto meglio tra Pirlo e Allegri Tra una Juve e quell'altra Perché stiamo parlando di due stagioni relativamente mediocri Per quelle che sono state le altre stagioni che hanno accompagnato la Juventus Negli ultimi dieci anni E quindi chi ha fatto meglio tra Pirlo e Allegri Alla fine della fiera Se lasciamo da parte tutto Rimane una qualificazione in Champions con quarto posto Poi se vogliamo sviscerarla Uno aveva Cristiano Ronaldo L'altro no Uno era il primo anno di allenatore L'altro invece ha affermato che guadagna 7-8 milioni di euro all'anno Uno si è qualificato all'ultima giornata Uno si è qualificato in anticipo Ma di sempre di quarto posto stiamo parlando Uno aveva un campionato un po' più combattuto Uno un campionato più delineato con l'Inter Ma sono cose che poco importano Rimane una sola verità La Juventus nelle ultime due stagioni Ha fatto due volte quarto posto È uscita due volte agli ottavi E ora vedremo in finale di Coppa Italia Perché tutte e due le volte è arrivata in finale Una volta l'ha vinta con Pirlo l'anno scorso con l'Atalanta Una gran finale tra l'altro Quella con l'Atalanta La Juve vedremo La Juve di Pirlo ha vinto una supercoppa Contro il Napoli La Juve di Allegri l'ha persa contro l'Inter L'ha persa come l'ha persa Lo sappiamo È stata anche una prestazione non bellissima della Juve Che aveva degli assenti Poi io sono solito La supercoppa Contarla come no È ovvio che preferisco vincerla Però stiamo parlando veramente Di una competizione secca da 90 minuti Che poco ti dà La Coppa Italia la sento già un po' di più Perché c'è un percorso dietro la Coppa Italia La Juventus in questo percorso Ha eliminato squadre come Sassuolo Sampdoria, Fiorentina L'Inter ha dovuto eliminare il Milan Che è la concorrente diretta per lo Scudetto Questa Coppa Italia però pesa La sento pesante Per un motivo Zero titoli Zero titoli Rischiamo zero titoli È dieci anni Dieci anni Che vinciamo qualcosa Dieci anni Pensare di interrompere una striscia Che dura dieci anni Mi fa male Cioè ragazzi Sono qui che sto male A pensare una roba del genere E pensare ancora una volta Di perdere Per la seconda volta in stagione Una finale contro l'Inter Sono cose che mi fanno male Mi fanno male Da tifoso della Juventus Lo dico Mi fa male pensarci Sono anche consapevole Che sarà complicato Sono consapevole Che l'Inter Sarà la favorita Dall'altra parte Questa giornata di Serie A Forse ci ha dato una mano Perché l'Inter L'altro giorno Ha dovuto giocare Una partita molto intensa Contro l'Empoli Per recuperare Perché aveva necessità Assoluta Di vincere Per rimanere aggrappata Al treno Il sogno Scudetto Rimonta sul Milan Noi abbiamo fatto una partita Io penso Ai minimi storici Veramente Ai minimi storici Quindi non credo Che la Juve abbia faticato Più di tanto Nella partita col Genoa E ieri sera Il Milan Nella Fatal Verona Che non è stata fatale Ha rimesso Il musetto davanti All'Inter Si è riportato In vantaggio In testa in Serie A E questo butta Ancora più pressione Sull'Inter Che nel frattempo Dovrà preparare In mezzo alla settimana Una partita Contro la Juventus Per poi riproiettarsi Ancora sul campionato E quindi dover fare Questo switch E lo sappiamo bene Che avere una competizione Diversa in settimana È qualcosa di pesante Lo sappiamo bene Che più si avvicina Alla fine E più Tutti i palloni Diventano più Veramente difficili Da giocare Perché hanno un peso Specifico diverso E soprattutto La testa Ha ragione In un altro modo Io credo che l'Inter In questo momento Abbia una pressione psicologica Mai vista Perché è vero Che ha vinto La Coppa Italia Ma se a fine stagione Poi l'Inter Si presenta Con lo scudetto Perso contro il Milan Perché ha buttato via Tutto quello che poteva Buttare via E una finale persa In Coppa Italia Contro la Juve Perché era più Concentrata sullo scudetto Che poi non andrà a vincere Loro dovrebbero Veramente incazzarsi Avrebbero soltanto Da arrabbiarsi Quindi credo che Che possano essere Molto concentrati Sullo scudetto Perché perdere Questo scudetto Per l'Inter Significherebbe tanto Dopo averne vinto Uno l'anno scorso E dopo essere stati Veramente in vantaggio Di tanti punti Rispetto alle pretendenti Per tanto tempo Della stagione Però ricordiamoci Che non dipende Da loro Cioè loro devono vincere E sperare che anche Il Milan si fermi Al Milan cosa bastano Quattro punti In due partite In questo momento Con Atalanta E Sassuolo L'Inter invece Deve vincere tutte e due E sperare che il Milan Inciampi Da qualche parte Che faccia almeno Una sconfitta E quindi non è facile Non è facile per niente Perché l'Atalanta Ha poco da chiedere Il Sassuolo Ha poco da chiedere L'Inter affronta tra l'altro Il Cagliari Che deve salvarsi Che ieri sera Si è aggrappato Al 99esimo Ancora una volta Alla Serie A Col gol di Altare E quindi mi viene da dire Forse allora l'Inter Può ragionare di più Sul dire Vabbè Lo scudetto Deve succedere un miracolo Almeno cerco di portare a casa La Coppa Italia Perché dipende da me Come funziona In questi casi Perché lo diciamo Tranquillamente Lo dico tranquillamente Credo che l'Inter Sia la favorita numero uno Per portarsi a casa Questa Coppa Italia E che in questo momento Il Milan sia il favorito numero uno Per portarsi a casa Lo scudetto Dopo una vita intera E sono stato a dire Che per me la favorita Era l'Inter L'Inter ha sbagliato Tutto quello che poteva sbagliare A Bologna Ha lasciato dietro due punti Che probabilmente Potrebbero davvero Costare il campionato intero E quindi ora Si sono invertite Un po' le gerarchie Ma questa pressione Che ha addosso l'Inter Sarà positiva E cioè Gli farà dire Facciamo vedere che O sarà negativa Non dimentichiamoci Che l'Inter Tra l'altro Arrivava a Torino A giocare contro la Juve In Serie A Dopo un periodo In cui non vinceva Da sette partite di fila Quelle sette partite Sono state molto pesanti Ai fini del campionato stesso Mentre il Milan Invece continuava A recuperare punti Nei confronti dei cugini E quindi magari In quel momento L'Inter arrivava addirittura Paradossalmente Da sfavorita Allo stadium Dove la Juve invece Macinava Punti su punti Su punti In striscia positiva Da tempo E poi abbiamo perso Facendo forse La nostra miglior partita Stagionale Sicuramente la migliore Del ritorno Per quanto mi riguarda E allora vi chiedo Secondo voi La Juventus Come si approccerà A questa finale Perché Se ci penso Se ragiono Su questa cosa Mi viene da dire Allegri andrà a riproporre Esattamente la stessa formazione Che abbiamo visto L'altra volta E cioè Di Bala Dietro la punta Che andrà a marcare A uomo Brozovic Morata giocherà Sul largo a sinistra Dove andrà a pressare Skriniar Quadrado a destra Dove presserà Bastoni Vlaovic Uno contro uno Su De Vrij E quindi la Juventus Andrà a 4-2-3-1 Aggressivo Con magari Appunto Rabiot e Zaccaria In mediana Pronti A recuperare palloni E a ripartire A fare una gara Nervosa Rabbiosa Intensa Offensiva I pressing Mi immagino la Juve Che vada a fare Una gara di questo tipo Con la speranza Di riuscire a buttare Dentro qualche pallone In più Rispetto agli zero Che purtroppo Abbiamo buttato Dentro a Torino Però mi aspetto Una gara di questo tipo Anche perché ribadisco Se siamo arrivati Al punto All'11 di maggio Perché sarà L'11 di maggio A sperare assolutamente Nella vittoria Della Coppa Italia Significa che C'è rimasto Solo quello Significa che La stagione è stata Molto amara Significa che Perdere un altro trofeo Diventerebbe Un boccone Troppo amaro Da digerire Significa che Dobbiamo dare Tutto in quella partita Che sulle ultime tre È l'unica Che mi auguro Veramente di vincere Perché ormai Anche il discorso Legato al terzo posto Probabilmente È andato a farsi Benedire E quindi è molto Molto brutto Molto molto brutto Dover pensare Di sperare 100% La vittoria La Coppa Italia Ma a noi Questo rimane All'Inter Rimane ancora Tanto altro E dobbiamo anche Sperare Che questa cosa Possa mettere Pressione all'Inter Ci rendiamo conto Ci rendiamo conto Di quello Di quello che sto dicendo Coppa Italia In maniera diversa O non me ne frega niente Di quello che sto dicendo È andato a farsi Di quello che sto dicendo È andato a farsi E andato a farsi Grazie a tutti